Sì, sono io, certo che stavo dormendo. Ma lo sai che ore sono? Sì, scusami, ma volevo chiederti se sei disponibile fra cinque ore ad intervistare Frank Sinatra. Che hai detto? Hai capito bene, De Voi sei di passaggio a Roma ed è disposto a darci un'intervista, a condizione che ne lo faccia tu. Paoli, non sono l'unica giornalista che lavora all'ITC. E poi ieri sera ho fatto tardi. Ma che vuole a quest'ora quel rompiscatole? Digli che ti lasci in pace. Frank Sinatra arriva tra cinque ore a Roma e vogliono che lo intervisti io. Non posso rifiutare. Pronto, Giulia, sei ancora lì? Sì, parla, ti ascolto. Non penserai di rinunciare, vero? Puoi farmi questo? Saremmo l'unica emittente ad intervistare. È un'occasione d'oro. D'accordo. Anche stavolta hai vinto tu, ma sei in debito con me, eh? Guarda che la lista si allunga. Ciao. Grazie, ciao. A sentire il tuo capo sembra che abbiano solo te in quella stramaledetta emittente. Dai, non arrabbiarti. Spostati. Conosco un ottimo sistema per farti riaddormentare. Conosco un ottimo sistema per farti riaddori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutte doppie punte. Una battaglia persa. Finish. Finito. Bellissima. Ma chi c'è? Non ti piace? Ma Leonardo... Io sono mosso un po' davanti. Io sono un artista, tesoro. Sei molto bravo, nessuno lo nega. Ma il pubblico è abituato a vedermi con i capelli in un certo modo. Gli piacciono così come sono. Il pubblico qualche volta andrebbe preso a calci in culo, mia cara. Dai, retta a me. Ma la mia pettinatura è un segnale di stabilità. È rassicurante e non posso cambiarla così se mi giri. E comunque non senza aver indetto prima una conferenza stampa. Oh, guarda, non sapevo di avere a che fare con la regina d'Inghilterra.